che ragazzi continua la nostra esplorazione del mir siamo qua uno stand ormai io li chiamo amici perché così vi definisco è nata un'amicizia con Andrea ora anche con Damiano sono i ragazzi immagine i ragazzi immagine di IC Video Pro Video Pro che sta per videoproiezioni sapete che noi trattiamo e siamo amanti anche dell'home cinema ma non solo adesso si parla anche di visual art ho fatto suo abbiamo fatto un po' di perlustrazione a quello che sono le nuove realtà immersive e qua allo stand di video di video pro appunto le troviamo le troviamo e adesso Damiano mai ci spieghi un attimino innanzitutto parliamo di IC Video Pro l'azienda punto uno ok noi siamo una piccola realtà perché siamo tre lo staff è fatto di tre persone piccola ma forte diciamo che siamo agguerriti nel senso che abbiamo una forte tradizione a livello proprio di cursus aziendale nel senso veniamo dall'audio il fondatore Antonio Italiani quindi prima è stato veramente un pioniere anche nella ricerca audio storico rivenditore Bose quindi il centro Italia insomma è stato abbastanza un iniziatore di diverse attività molto molto interessanti e poi capendo che il video sarebbe diventato intuendo che il video sarebbe diventato la cosa forse più importante nel futuro ha splittato un po' il core business dell'azienda dall'audio al video e quindi siamo arrivati poi alla videoproiezione quindi IC Video Pro tendenzialmente vende e progetta quindi vende videoproiettore e tutta l'elettronica di consumo attorno alla videoproiezione dalle staffe, ai server, ai media player e poi facciamo anche progettazione ovvero se il cliente ci chiede vorrei fare una videoproiezione, vorrei fare un'installazione fissa, vorrei fare bla 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 noi ci mettiamo lì al computer con i nostri programmi con le nostre competenze e vediamo di dare al cliente un pacchetto completo che sia sia commerciale ma anche progettuale è artistico perché da questo punto di vista si passa anche a qualcosa di più del solo comprare un videoproiettore ora ti dico la verità, la mia amicizia e conoscenza con IC e con Andrea è nata perché ho telefonato e ho chiesto di collaborare a una partnership per una trasmissione che andremo a fare pensando a un'azienda che produce o distribuisce videoproiettori da lì ragazzi mi si è aperto un mondo, un mondo che Andrea mi ha spiegato, Damiano sta facendo adesso perché effettivamente non si ferma solo all'on cinema casalingo sicuramente alle spalle avete notato queste, come si possano chiamare, queste installazioni sì, noi tendiamo a definire, immagino a tutti riferisco quindi al video mapping quello che state vedendo in questo momento ad esempio sono video mapping in large venue large venue significa ovvero video mapping su piazze, monumenti quindi di grandissime dimensioni possono arrivare anche a 200-250 metri di base proiettabile quindi parliamo ad esempio del lavoro che abbiamo fatto a Carpie dovrebbe essere nel Guinness dei Primati Italiano come dimensione di base proiettabile siamo arrivati sui 200-250 metri proiettati cioè ragazzi quindi a tutti i nostri ascoltatori vi dico andate un attimo sul sito perché è interessante per eventi per cose varie perché insomma sono specializzati in questi e Andrea me l'aveva detto questa cosa del Guinness dei Primati alle mie spalle sì, forse vi incuriosisce, c'è questo box con i Playmobil ragazzi ci sono qua, ma tanto l'ho già fatto vedere io con delle videocamere Optoma dei video proiettorini piccoli così che sono in partnership con voi ci spieghi questo box cosa rappresenta con i Playmobil sì questa allora fa parte di una delle due mini installazioni che abbiamo preparato per il Mirtec del 2022 questa in particolare si chiama Immersive Box ovvero di cosa stiamo parlando? parliamo di una riproduzione in scala di una sala immersiva ovvero quello che poi noi andiamo a realizzare a dimensioni naturali, reali, in musei, fondazioni, discoteche, club quello che capita, quello che ci chiedono, quello che noi andiamo poi a realizzare cosa succede quindi? in questa piccola riproduzione di una sala immersiva abbiamo posizionato questi tre videoproiettori Optoma sono degli ML 1050 parliamo di mini proiettori tascabili a LED sono sui 1000-1500 ansi lumen, risoluzioni VXGA quindi noi andiamo poi a montarli ovviamente in serie sulle tre pareti e questi poi vanno a mappare, video mappare si dice tutta la superficie ovviamente delle tre pareti cosa succede che nella realtà pensate a un museo, andate a vedere non so, un'installazione, una mostra entrate nella sala e siete completamente avvolti da queste proiezioni in movimento continuo e che ti rendono poi partecipe per questo si dice immersiva ti fanno entrare dentro l'opera d'arte, l'evento, le installazioni che andiamo a fare e qua, infatti, come ha detto Damiano si va nella concettualità dell'arte vera e propria con la videoproiezione che secondo me è un po' il futuro l'immersività l'immersività ha aiutato alla videoproiezione sai che facciamo? ci spostiamo nella parte opposta dello stand e andiamo a vedere la seconda installazione venite con noi ok e qua vi volevo qua è proprio il punto che a me ha incuriosito maggiormente siamo sempre in versione mignon qua non ci sono i Playmobil però pensate pensate al palazzo quanto può essere immenso e a quello che vedete questo è il mapping ovviamente lo dico io tanto correggimi se sbaglio poi vengo dalla tua anzi tu vieni di qua che di là c'è tutto il tavolo un casino allora se ho capito bene il mapping ci vuole ovviamente il videoproiettore ma ci vuole anche l'artista perché non è che mettete il videoproiettore e proiettate le immagini c'è un discorso di un artista specializzato in questo infatti voi non ci fate caso ma se mi riesce dopo vi faccio vedere il palazzo a un certo punto crolla e è meraviglioso meraviglioso perché rende già nel modellino mi immagino quando l'avete fatto nella realtà quello che tu hai definito crolla in gergo tecnico si dice esplode esplode scusatemi esplode ed è bello a me piace usare questo termine perché quando lo si vede dal vivo quando succede questa sorta di magia sembra davvero che la facciata o comunque quello che tu stai vedendo proiettato sulla facciata del palazzo della piazza ti esplode davanti agli occhi perché l'effetto è veramente molto 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 impattante insomma ti arriva veramente in pancia quello invece che stiamo vedendo qua nella piccola installazione nella micro installazione che abbiamo portato insieme all'immersive box è una videoproiezione con laser integrato è un prototipo in Italia ancora non ci sono state videoproiezioni con laser integrato io le ho viste solamente all'estero ne ho viste qualcuna ad Amsterdam o qualcuna a New York semplicemente perché è una cosa molto difficile a livello tecnico in quanto sono due fonti luminose molto diverse il laser ha una potenza luminosa molto molto definita perché è molto molto ridotto il campo d'azione del laser quindi ha una forza luminosa molto molto esagerata mentre la videoproiezione ha un colore più caldo pur essendo ugualmente potente e luminoso però sono due cose un po' diverse quindi integrare le due cose non è semplice infatti qui abbiamo fatto questo piccolo prototipo sempre con un piccolo optoma 1050 ml ora facciamo vedere e abbiamo messo questa sorgente laser gestita da un programma che si chiama MadMapper quindi cosa significa che il contenuto della videoproiezione è stato poi riadattato per il laser quindi il laser si va a integrare all'interno della videoproiezione e succede questa magia quindi vediamo il laser all'interno e all'interno del laser facciamo apparire la seconda videoproiezione la stiamo provando in sala prove perché un conto è farla su un metro quadrato un conto è farla su 100 metri quadrati o 150 metri di base quindi ci stiamo lavorando ci arriveremo sicuramente ma vogliamo fare un buon lavoro quindi aspettiamo sicuramente siamo fiduciosi anzi poi fateci sapere che vedremo il risultato in larga scala ma già già è fantastico così ora parliamo di videopro come service di noleggio cioè nel senso magari il proiettore vi serve o diciamo un bel videoproiettore vi serve per un convegno per un evento importante e grosso ma non ha logica a comprarlo perché ovviamente possiamo venire e noleggiarlo sembra un po' una televendita ma è giusto per farvi capire l'azienda a 360 gradi certo il mondo della videoproiezione ovviamente come avrete capito è anche a un certo costo nel senso stiamo parlando comunque di spettacoli che hanno un valore sia a livello artistico ma anche a livello tecnico sono delle macchine molto costose alcune anche molto ingombranti quindi ci vuole ci vogliono delle skills proprio per saperle usare bisogna avere le potenzialità per poterle far esprimere quindi non è semplice fare uno spettacolo di video mapping cosa succede che noi siamo strutturati con due realtà il Civito Pro che praticamente fa vendita e progettazione poi abbiamo la nostra sorella perché sono due società praticamente gemelle che si chiama Service2Service che fa principalmente rental ovvero noleggio e installazione sul loco i nostri tecnici poi vanno a montare e a realizzare lo spettacolo che il cliente o l'artista ci chiede e ci commissiona quindi se voi volete fare uno spettacolo di video mapping e non avete magari i soldi oppure l'intenzione di fare una cosa strutturata nel tempo potete tranquillamente chiamarci e dire ok vi noleggio la macchina per due giorni ci facciamo uno spettacolo vi costa di meno e la rese garantita io non volevo fare la televendita ci ha pensato Damiano va benissimo trovate sul sottopancia tutto quello di cui abbiamo parlato lo mettiamo qua e io che dire penso che abbiamo detto un po' tutto sei stato carinissimo super preparato vi lascio alle immagini andiamo avanti Mir 2022 e ancora Rock & Rock Rock & Rock 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 Grazie per la visione!